Abbiamo deciso di prenderci del tempo da dedicare a voi subito in questo inizio di settembre, sapete che ci piace creare valore per la nostra community, ci piace condividere la conoscenza, ci piace aiutare anche al di là della formazione, delle aule, della consulenza e abbiamo pensato quale modo migliore per farlo se non proprio rispondendo alle domande che le persone possono avere, visto che ce ne sono sempre tante, qualcuno ogni tanto me le fa magari anche nei commenti a un post, qualcuno mi scrive su LinkedIn oppure un'email, ma so che magari la maggior parte delle persone che mi seguono o seguono la pagina di LinkedIn for Business su LinkedIn o su altri social magari non osa palesarsi con una domanda, allora mi ha detto chiediamole, in effetti sono arrivate una quarantina di domande per il webinar di oggi, le ho tutte preparate in una presentazione, adesso andremo a condividerle e a commentarle, cercherò di rispondere a tutte anche perché potete immaginare alcune ruotano intorno allo stesso tema. Ho visto però tra le persone che si sono registrate e che si stanno unendo a noi che non tutti magari già ci conoscono, ho visto dei nomi nuovi per cui do il benvenuto anche a loro e in 30 secondi voglio darvi due informazioni su di me e su LinkedIn for Business. Io sono Alessandro Gini, sono un consulente formatore specializzato in LinkedIn, ho incominciato a fare questo lavoro nel 2013 e ben presto è diventata la mia prima attività. Nonostante questo non sono un dipendente LinkedIn, non sono associato a LinkedIn, LinkedIn for Business che è il brand che ho costruito è assolutamente indipendente, quindi non ha un riconoscimento di un'affiliazione a LinkedIn, in modo che sappiate che state parlando con qualcuno che di lavoro aiuta le persone, le aziende a ottenere il massimo da LinkedIn pur essendo indipendente dalla piattaforma, quindi non la rappresento. Questo ci permette anche di dire quando dovesse servire se qualcosa non funziona, non abbiamo secondi fini economici per far comprare advertising o piattaforme a pagamento, abbonamenti, eccetera. Quindi questo è quello che potete aspettarvi direttamente da me e da noi, visto che siamo un team, appunto LinkedIn for Business è il nostro brand. Ora direi che con l'introduzione è più che sufficiente, siamo circa una cinquantina già collegati e visto che le domande sono molto numerose, io incomincerò proprio a rispondere alle domande. Potete sempre utilizzare la chat come state in effetti facendo per eventualmente, come dire, oltre a fare un saluto, eccetera, un po' di interazione, quindi chiaramente magari se volete, quando rispondo a una domanda, chiedere qualche precisazione, un approfondimento, fatelo pure, vi chiedo al momento di non fare ulteriori domande nella chat perché me le perderei sicuramente e non so se avremo il tempo di rispondere, però se alla fine avanzeremo qualche minuto per delle extra domande che non mi avete mandato per email o che nel frattempo saranno arrivate, fatelo pure, però vi dirò io eventualmente quando fare le domande. Invece in questa fase in cui andremo a vedere domanda per domanda quello che mi avete chiesto, eventualmente usate la chat solo se dovesse servire appunto per approfondire o puntualizzare. Quindi mi avete scritto in tanti, vediamo se so le risposte, come qualcuno ha visto un post che ho fatto giorni fa, tipo in cuffia e telequiz, rischia tutto, vediamo di rispondere alle domande. Le so quasi tutte, ma qualcuno è riuscito a mettermi leggermente in difficoltà. Allora, ho raggruppato le domande siccome sono molte per argomenti, anche perché alcune sono affini, quindi posso rispondere magari anche a più di una domanda contemporaneamente. E voglio partire da alcune domande abbastanza semplici, ma non scontate, che riguardano la compilazione, l'ottimizzazione strategica del profilo personale. Per esempio, un paio di persone, Natalia e anche Silvia, mi hanno fatto delle domande sulle parole chiave, ovvero come fare ad utilizzarle al meglio nel proprio profilo LinkedIn. Intanto, le parole chiave possono essere molto utili per essere più facilmente trovati. Tenete sempre a mente che quando scriviamo il nostro profilo LinkedIn, noi abbiamo due tipi di interlocutore. Abbiamo un motore di ricerca, e quindi parliamo fondamentalmente con un algoritmo che ci deve pescare in qualche modo, e poi parliamo con degli esseri umani. Ogni parola che noi scriviamo può avere un vantaggio nei confronti di uno, dell'altro, o di entrambi gli interlocutori. Mettere delle giuste parole chiave permette di essere estratti dal motore, ma anche compresi da chi legge il nostro profilo. Le parole chiave su LinkedIn è bene che siano presenti, e attenzione, quando diciamo parole chiave non esiste un box che si chiama keywords, dove noi andiamo a inserirle, ma si tratta di inserire delle parole chiave, importanti, in alcuni campi del profilo, che sono il sommario o headline, la riga sotto al nome e cognome, la sezione informazione o repilogo o summary in inglese, che è la presentazione più lunga, fino a 2000 caratteri, nella parte di background, quindi esperienze lavorative, ma anche di studio, e poi nelle competenze, e torneremo fra poco anche a parlare delle competenze. Questi sono i luoghi in cui è bene metterle, ed è bene alcune, quelle più importanti, anche ripeterle in diversi luoghi, altre invece possono magari essere inserite solo una volta, e in base all'importanza magari, diciamo, più in alto sono, quindi nel sommario per esempio hanno una rilevanza particolare, o anche magari solo più in basso. Sul come identificarle, io faccio spesso un esercizio nei miei corsi sull'ottimizzazione del profilo, i miei suggerimenti sono questi, partite da un lungo elenco, provate a scrivere un po' a brainstorming con voi stessi, o con i colleghi se potete, un lungo elenco di parole, a partire dal vostro ruolo, dal settore dell'azienda, dalla funzione, dai prodotti, servizi, le soluzioni che proponete, i problemi che risolvete con il vostro prodotto o servizio, o con le vostre abilità, le vostre skills ovviamente, quindi fate un lungo elenco, poi magari restringetelo un po', se ne avete fatte veramente 50 parole, incominciate voi a decidere quelli che già a vostro sentimento sono più importanti, e da lì prendetene alcune e fate delle ricerche su LinkedIn, con quelle parole chiave e vedete che risultati ottenete. Chi esce con quelle parole chiave? Escono i competitor, escono magari dei colleghi, oppure escono delle persone che non c'entrano niente, capite che quella parola magari porta un po' fuori dal contesto su LinkedIn, e soprattutto se ottenete invece come risultati i profili di concorrenti, allora andate a studiare come utilizzano le parole chiave. In questo modo dovreste arrivare alla fine a una lista di 4, 5, 6, o 10 parole chiave massimo, che sono corrette, che funzionano su LinkedIn, e che quindi potrete utilizzare nel profilo. Questo può essere un modo per trovarle e per sfruttarle nel migliore dei modi. Bene, andiamo a altre domande, anche qua due domande abbastanza simili, che riguardano la presenza all'interno di un unico profilo di diversi cappelli, che possono essere in contemporaneo, o magari diversi ruoli del passato, me l'ha chiesto Natalia in questa domanda, ma anche Marco, no scusate, Marco invece me l'ha chiesto sulle competenze, ricordavo che qua ci fossero un paio di domande, se è bene mettere tutto oppure no. Ora, il punto è questo, se si tratta di funzioni, di cappelli che siano in contemporanea, il mio suggerimento è bene metterli nel background, ma il sommario dovrebbe essere quanto più possibile univoco, e dovrebbe essere sfruttato per comunicare direttamente, in modo molto chiaro per il vostro obiettivo principale, al vostro interlocutore, target pubblico, chiamatelo come preferite, ideale. Quello per voi più importante, quello che pensate sia anche più presente, più attivo, più sensibile su LinkedIn. Se si hanno più cappelli, è un po' difficile spingerli entrambi, a meno che non ci sia chiaramente un tratto che li unisce, allora si può puntare su quel fattore comune. Se invece parliamo di diversi ruoli avuti nel passato, è ancora più semplice, nel sommario e headline teniamo quello attuale, gli altri stanno esclusivamente all'interno del background, e quindi delle esperienze del passato. Bene, andiamo avanti con un'altra domanda che riguarda sempre il profilo, l'ho spoilerata prima, riguarda Marco, suggerimenti per aumentare le conferme di competenze, e quali importanza hanno per l'algoritmo? Intanto le competenze, quindi le abilità che noi associamo al nostro profilo, tra hard skills, soft skills, e anche altre così, che possono essere aggiunte collateralmente, sono utili per diverse finalità. Intanto permettono di mostrare quali sono le nostre abilità, permettono di mostrare una riprova sociale, perché possono essere confermati dai propri collegamenti, e aiutano anche in effetti l'algoritmo di LinkedIn, o meglio il motore di ricerca, che poi estrae il nostro profilo, a capire quali sono le nostre più importanti abilità. E in effetti pare che, perché LinkedIn non lo dichiara, una competenza con un maggior numero di conferme, rispetto a un concorrente, con pari caratteristiche, dovrebbe dare un vantaggio nel posizionamento. Però prendiamolo con le pinze. Quindi comunque un vantaggio c'è. Se le abbiamo, è meglio che abbiano un buon numero di conferme. Come fare a ottenerne conferma? Ci sono un paio di modi. Un modo è quello della reciprocità, confermare delle competenze, di propri collegamenti, nell'aspiranza che per reciprocità, una delle leve della persuasione, di cui parla anche Robert Cialdini nei suoi libri, loro verranno a confermare le nostre. Un modo è proprio quello di chiederlo ad alcune persone vicine, fare in modo che delle persone vicine possano essere sollecitate da noi con un messaggio, per esempio, per confermare le nostre competenze. Il resto lo farà LinkedIn. È importante che nelle impostazioni della sezione competenze ci sia la spunta per permettere a LinkedIn di suggerire ai nostri collegamenti di confermarci le competenze, in modo da essere in quel meccanismo che una volta era molto spinto da LinkedIn, fin troppo, ora invece è molto più contenuto. Comunque è quel meccanismo per cui LinkedIn richiederà ad alcuni vostri collegamenti di confermare le competenze. Ora LinkedIn, rispetto al passato, ha un'attenzione a proporre la conferma di competenza ai propri collegamenti solo se anche loro hanno quella competenza o se hanno una funzione, lavorano in un settore per cui potrebbero essere competenti in quell'ambito. Quindi non chiede più a un ingegnere elettronico di confermarci la competenza in digital marketing, per fortuna, non dovrebbe più accadere perlomeno, ma lo chiederà a persone che hanno questo tipo di caratteristica. Ed è il motivo per cui, in effetti, le conferme di competenze oggi sono un pochettino diminuite in quantità, ma aumentate in qualità. La domanda di Walter è una domanda che ha una risposta semplice, ma ci permette di fare il gancio con il prossimo argomento che è quello del social selling, so che interessa tantissimi e quindi state ben attenti e collegati perché adesso arriva un momento caldo. Walter dice, io ho già un profilo, riassumo, non leggo letteralmente, ho già un profilo su quello collegato alla mia email personale, ora in azienda si userà Sales Navigator e io vorrei tenere le due cose un po' distinte. Allora, qui ci sono due livelli differenti. Il primo livello è quello dell'email associata. Ogni account LinkedIn LinkedIn può avere diverse email associate, ogni email può essere associata a un solo account. Il suggerimento è di avere un unico profilo e di associare le diverse email che possono essere utili sia per essere trovati più facilmente, ma anche per recuperare la password qualora dovesse servire, senza nessun problema. Poi, una è quella definita come principale, è quella che vedono anche i propri collegamenti e che LinkedIn utilizza per inviarci eventualmente delle notifiche se le abbiamo lasciate attivate. Invece, è assolutamente sconsigliato, anzi, e contro i termini di utilizzo di LinkedIn, avere due profili. Ogni persona, anche se non deve caricare il documento di identità quando si iscrive a LinkedIn, io quasi preferirei fosse necessario, devo essere sincero, da alcuni punti di vista, anzi, ditemi cosa ne pensate voi. Se LinkedIn chiedesse il documento di identità quando si fa un profilo, secondo voi sarebbe buono oppure no? Vi faccio questa domanda per avere un po' di interazione. Io sono assolutamente pro, ma se siete contro, ditemelo. Comunque, nonostante non vada caricato, non si possono, dice, nelle condizioni di utilizzo, avere più di un profilo per un'unica persona. Oltre al fatto che sia scorretto, vietato, è anche assolutamente inefficace, perché poi il nome e il cognome è quello. Quando uno ci cerca su LinkedIn, troverebbe due profili e non saprebbe a quale chiedere il collegamento. Quindi, assolutamente no, due profili. Ok, siamo quasi sufficienti per fare una mozione e chiedere a LinkedIn, allora in effetti di chiedere d'ora in po' il documento di identità. Vedo che la maggior parte di voi è d'accordo. Va bene, faremo arrivare questa voce a LinkedIn, in qualche modo. Allora, presto parleremo del social selling, come vi dicevo, però ci sono state in mezzo un paio di domande sul network e quindi ne voglio parlare subito, perché in realtà il network è proprio quel tema caldo, chiave, per poi poter parlare di vendite, di social selling, in quanto ovviamente, ok, avere un buon profilo, ma poi dobbiamo collegarlo alle persone e sfruttando bene questi collegamenti, possiamo anche imparare e fare social selling. Social selling non è vendere su LinkedIn, ma usare LinkedIn per creare relazioni con una finalità commerciale. riguardo al network, mi sono arrivate alcune domande, una che riguarda le novità, me l'ha fatta Stefania, su come ora LinkedIn permette di contattare le persone. Intanto è un po' cambiato l'inserimento della nota. Quanto ai limiti, in realtà è veramente un po' un pasticcio, nel senso che LinkedIn è un pochettino opaco, non è sempre super chiaro. Si trovano scritti alcuni limiti in termini di numero massimo di richieste di collegamento che si possono fare nella propria vita LinkedIn, oltre al numero massimo di collegamenti, che è 30.000, limite di massimo di inviti che si possono fare al giorno, per esempio, eccetera. Però in realtà, il punto non è tanto il limite, perché eventualmente arrivare al numero massimo comporta semplicemente che LinkedIn vi dica basta, non puoi andare oltre, per oggi o per questo periodo. Il vero problema, ed è un pochettino più subdolo, sono delle attività particolarmente intense che fanno sospettare a LinkedIn un utilizzo fraudolento, che può voler dire l'utilizzo di bot, o anche un utilizzo manuale, ma di un'intensità eccessiva che può rasentare lo spam. Allora, in quel momento, e potrebbe essere anche magari ben sotto il limite ufficiale, che poi sempre non è così ben chiaro, che LinkedIn può bloccare il profilo temporaneamente, talvolta anche per periodi più lunghi, o magari blocca solo una funzione. Proprio qualche giorno fa, nei commenti a un post in cui mi ha coinvolto Emanuela, non so se sei collegata a Emanuela, un nostro collegamento comune citava la difficoltà nel chiedere nuovi collegamenti, perché gli viene ora sempre chiesto l'indirizzo email della persona, e, indagando, abbiamo scoperto che in effetti aveva fatto un'attività massiccia nel periodo recente di richieste di collegamenti, ma non è che avesse raggiunto un limite particolare, ma ancora prima LinkedIn ha alzato le antenne dicendo, attenzione, forse stai facendo qualcosa di non corretto. Quindi, il vero tema è più che altro questo. Andiamo avanti alla prossima domanda, sempre che riguarda il network. Franca, non so se è collegata, mi ha scritto oggi un paio di messaggi, disperata, tra virgolette, cioè, veramente, eccoti qua, alla ricerca di un modo per organizzare i contatti, perché in effetti quando il network cresce, ti capisco, Franca, io ho quasi 13.000 collegamenti, il problema per capire a quale mondo del passato appartengono, no? Quindi, se sono magari ex colleghi, o se sono clienti, o se sono magari di un particolare gruppo, diventa difficile. A chi le dice che non si sente, datemi un feedback. Gli altri mi sentono? Oppure, sì, ok. Allora, Achille, è un problema delle tue casse. Grazie del feedback. Allora, Franca, è un tema assolutamente chiave, importante. Purtroppo, la risposta non è positiva, nel senso che LinkedIn non permette di organizzare i contatti come si faceva una volta per gruppi, o con dei tag, o con delle liste, nella versione gratuita. Permette di farlo nella versione Sales Navigator, dove si possono creare liste. In realtà, anche in Sales Navigator, LinkedIn sta rimuovendo i tag. Per quale motivo? Vallo a capire. Talvolta, LinkedIn è un pochettino imprevedibile nelle sue scelte. Vedete, se fossi asfiliato a LinkedIn, non potrei dire questo. Però, con Sales Navigator, si possono fare delle liste. Un'altra cosa che eventualmente si può fare, è utilizzare dei software di terze parti, che permettono, in effetti, di taggare i contatti, uno su tutti, Duck Soup, per esempio, permette di farlo. Sono estensioni di Google Chrome, quindi poi non ce le ritroviamo in realtà da mobile, e comunque sono a pagamento. O ancora, un espediente, veramente però, non troppo efficace, ma che si potrebbe utilizzare, è fare delle ricerche avanzate, con delle caratteristiche, per esempio, tutte le persone di una certa azienda, dentro al proprio network, quindi mettendo anche come criterio nella ricerca, primo grado, e poi salvare tra i preferiti del browser questa ricerca, in modo da richiamare una pagina di risultati di una ricerca nella propria rete con determinate caratteristiche. Non è l'ottimale, ma potrebbe essere una buona scorciatoia per provare a fare ciò. Qualcuno dice, perché vogliono vendere Sales Navigator? Ma in realtà, nì, perché sì, vogliono assolutamente venderlo, ma hanno tante altre strategie per vendere Sales Navigator che utilizzano. Il vero punto è che questa non è una leva sufficiente, se uno non deve fare prospecting, non ha bisogno di Sales Navigator e comunque non lo comprerà mai, quindi ci potrebbe essere un'altra funzione magari per questo, anche perché in Sales Navigator le liste in realtà sono buone anche per salvare appunto elenchi, persone non ancora collegate, quindi fare proprio liste di prospect. Una domanda di Elisa, ed è l'ultima, il tema network, dove vedo se i follower di una pagina o i collegamenti di una persona ancora seguono la pagina o la persona o hanno rimosso dal feed i contenuti della fonte in oggetto. Non si può vedere. Ora, va bene che LinkedIn rispetto ad altri social dà degli insight come chi ha visitato il profilo, che non esiste, è la più grande bufala di Facebook, no, non è mai esistito lì, però sapere chi ti ha rimosso dal news feed non si può sapere, bisogna chiederglielo o possiamo immaginarlo se non interagisce mai con i nostri contenuti. Nel caso di una rete piccola potremmo eventualmente anche immaginarlo, però purtroppo è un'informazione o forse per fortuna, è un'informazione che non si può avere, viene rispettata un po' di privacy da questo punto di vista. Bene, quindi arriviamo al social selling, come dicevo, tema assolutamente caldo su social selling e su content, su contenuti, mi avete fatto tante tante domande, adesso accelereremo anche un pochettino perché molte domande possono essere comuni. Parto da questa, l'ho messa, io ho proprio incollato tutte le domande e non ho nemmeno corretto l'italiano o le punteggiature, ho fatto un copio e incolla puro. Michele dice che non ci sono libri professionisti e PMI su LinkedIn, devo dire che forse non usiamo lo stesso LinkedIn. Michele, non so se sei collegato, ma onestamente ci sono e ci lavoriamo e ci lavoriamo molto bene, quindi in realtà direi che poi sugli altri social non lo so, io sono un esperto di LinkedIn, però direi che ci sono. Allora, giustamente Sara, parlando di social selling, nota, non è il massimo nell'ambito B2B provare un approccio commerciale subito dopo il primo contatto, subito dopo aver ottenuto il collegamento da una persona. È effettivamente così? Qual è il modo migliore per farlo e per non essere invadenti e per non essere opportuni? Ora, nei corsi di social selling noi parliamo di LinkedIn funnel, quindi di quel processo che passa attraverso diverse fasi dal entrare in contatto, per esempio, diventare collegamenti a diventare un vero e proprio lead. Ora, la fase in mezzo, se vogliamo dire così, è proprio quella che chiamiamo la qualificazione o il nurturing, quindi ci sono una serie di attività da fare che fondamentalmente si distinguono in pubblicare contenuti di valore e di utilità per il target in modo che le persone possano avere una percezione sempre migliore e quindi noi possiamo migliorare la nostra reputazione nei loro confronti, così che quando arriveremo con un messaggio commerciale di follow up possano essere più pronti ad accoglierlo e dall'altra fare attività uno a uno nei confronti della persona, come visitare il profilo periodicamente, consigliare o meglio ancora commentare i post della persona, non condividerli, lasciate stare, non serve a niente, o magari se la persona l'abbiamo un po' conosciuta anche magari confermare delle competenze. Quindi dobbiamo fare delle azioni per far sì che la nostra vicinanza corrisponda anche a un maggiore interesse per far sì che la persona possa poi essere aperta anche a un messaggio un po' più commerciale. Alberto mi chiede come ingegnere, potrebbe essere qualunque ruolo e ne ho pensionato, qual è il modo migliore per propormi come consulente part-time in questo campo? La risposta dal mio punto di vista Alberto, tu potresti essere un digital market full-time o un contabile che vuole essere dipendente, fare carriera in azienda ma non cambia, alla fine la via è sempre quella di avere un forte personal brand, di avere una rete di contatti di valore, di condividere la propria conoscenza e solo questo alla fine che permette di poter attirare delle relazioni che possano sfociare in, per esempio, un incarico. Poi sarà nella fase di, diciamo, affinamento delle relazioni che uno fa capire che in realtà è disponibile part-time, eccetera, e comunque queste informazioni si possono scrivere nel profilo. L'unico tecnicismo in più che potremmo aggiungere è che, soprattutto per i freelancer o comunque chi lavora in modo autonomo, sul profilo LinkedIn esiste una sezione che però non ancora tutti riescono ad utilizzare perché, sapete, talvolta LinkedIn nasconde un po' le cose, c'è una funzione che si chiama servizi offerti che permette di mettere in evidenza quali servizi si offrono, però non spaziano a 360 gradi in tutti i settori che possono essere molto utili soprattutto per chi non sta tanto cercando un lavoro, per quello c'è l'open to work, poi lo citiamo, ma più per chi appunto è un consulente o è una PMI o è un commerciale anche magari di un'azienda più strutturata e quindi io farai assolutamente e faccio per me e per i miei clienti in questo modo. Alessio mi chiede come portare le persone che seguono i nostri post alla vendita dei servizi che è un pochettino quello che ci chiedeva anche due slide fa Sara, però lei parlava proprio di nuovi collegamenti, qui invece parliamo più di persone che entrano in contatto con i contenuti. Allora, la strategia è simile nel senso il contenuto di valore è sempre quello che guida perché se le persone leggono contenuto di valore saranno più predisposte a diventare magari anche dei clienti. Anche qua ci sono un paio di strade che possono essere da una parte delle attività più private e quindi quando ci sono delle persone che hanno uno score importante perché vediamo che sono persone che mettono sempre like alla maggior parte dei nostri post o spesso li commentano li condividono o in effetti visitano di frequente il profilo quindi capiamo che c'è un alto interesse allora si può andare privatamente con un messaggio perché noi sappiamo che loro sono caldi o addirittura lo possiamo dire vedo che sei molto interessato a questo tema e significa che siamo con un contatto maturo fondamentalmente. Oggi lo possiamo fare come sapete anche guardando i nuovi follower di una pagina perché è possibile vedere l'elenco però qui parliamo di persone che sono interessate ai post l'altra strada è proprio quella di disseminare invece dei post che si chiudono con una call to action che possa portare fuori da LinkedIn quindi dopo una serie di post di tanto valore e utilità puramente informativi e massimo con un po' di interazione dei commenti ci può essere un post che proprio propone clicca qui per fissare una call conoscitiva clicca qui per partecipare a un webinar oppure per scaricare questo documento e a quel punto acquisito il contatto e sulla base di quell'azione volontaria e fatta nel modo corretto anche con le giuste liberatorie che ci rendono compliant al GDPR si potrà fare un efficace approccio anche commerciale. Paolo mi chiede cosa è opportuno valutare prima di investire in Sales Navigator nel senso farlo per una piccola azienda allora non è la dimensione che guida anche perché Sales Navigator Professional costa 60 euro al mese ed è un costo che ogni professionista se Sales Navigator funziona e porta dei lead o fa magari anche risparmiare non so un appuntamento a vuoto è assolutamente sostenibile. In realtà la vera valutazione è se si ha il tempo di utilizzarlo dal mio punto di vista. Non tanto le skills perché quelle si possono acquisire non è nemmeno così difficile ma il punto è che Sales Navigator è molto time consuming è potentissimo ma non è una becchetta magica richiede tanto tempo da investire per fare le ricerche le liste di persone seguire le persone studiarle trovare i giusti le giuste informazioni capire quando entrare in azione prendere un contatto quindi per me il primo discrimine è c'è qualcuno in azienda parlando per esempio di piccola azienda che può dedicare o meglio che è dedicato principalmente al prospecting che può dedicare del tempo con costanza quindi questo è secondo me il vero nocciolo della questione. Allora Michele chiarisce la domanda di prima aziende e libri professionisti che non usano ancora LinkedIn come fare a coinvolgerli? Guardate cavoli loro non sanno quello che perdono dovremmo fargli capire quello che perdono sugli altri social network cioè attraverso gli altri social se ci sono o quando li incontriamo dovremmo fargli capire quello che perdono in realtà. Allora Maria Roberta parlando di Sales Navigator mi chiede come fare a ottimizzare le liste o come organizzare e scaricare i contatti. Allora parliamo di liste quindi su Sales Navigator si creano liste di persone che sono affini magari perché ci interessano per un progetto o perché hanno ruoli o sono in aziende simili o sono in una fase nei confronti del nostro processo di vendita omogenea per esempio prospect ancora da contattare persone con cui si è avuto un primo contatto persone che hanno dimostrato già un notevole interesse quindi si possono utilizzare in vario modo anche perché una stessa persona la possiamo inserire in diverse liste possiamo fare numerose liste purtroppo LinkedIn come dicevo prima sta rimuovendo i tag e di conseguenza non si possono più associare anche i tag ma solo mettere le persone nelle liste i tag erano un po' più flessibili invece la lista è un pochettino più impegnativa nella sua manutenzione però tant'è ne prendiamo atto quindi per organizzarle bisogna studiare un po' carta e penna o un file excel quali sono i cluster che vogliamo listare e poi nelle liste ne mettiamo persone che possono essere collegate con noi o in secondo grado o in terzo grado e si possono anche fare le liste di aziende LinkedIn le chiama account per estrarle non esiste un strumento integrato di LinkedIn ci sono software di terze parti che permettono di fare lo scraping e quindi poi l'estrazione in liste excel dei dati visibili oppure in un modo super grezzo ma che comunque funziona l'ho fatto io stessa con dei clienti se noi facciamo una bella selezione di un'intera pagina dove ci sono tutte le persone della lista un bel copio cioè ctrl c quindi ctrl a per selezionare tutto ctrl c o command se siete con Apple c per copiare poi in un bel file di Word fate un'incolla avete tutte le informazioni visibili in quella pagina e i nomi e cognomi delle persone restano dei link quindi vi do le varie soluzioni ce n'è anche una super grezza e anche decisamente economica se voleste per poter estrarre in qualche modo i contatti bene passiamo alla pagina aziendale perché in una strategia LinkedIn la pagina aziendale ha un ruolo rilevante per quanto limitata e tra l'altro spesso è una sponda importante per fare social selling e ci sono alcuni dettagli che possono fare la differenza per esempio Alessio mi chiede mi dice che ha notato che molte pagine hanno lo spazio slogan che è un po' come la headline o sommario del profilo personale è utilizzata per inserire l'indirizzo email o il numero di telefono se la reputo è una buona scelta allora più che essere una buona scelta o no io suggerisco sempre di usare lo slogan per una call to action oltre che per magari inserire delle parole chiave e far capire cosa fa l'azienda ma è molto efficace usare questo spazio 120 caratteri per inserire una call to action una chiamata all'azione che magari poi si concretizza nel bottone che c'è sotto sapete che a fianco a segui c'è un bottone che può essere contattaci per sapermi di più visita il sito web quindi se lo slogan contiene un clicca sul bottone qui sotto per ottenere fare registrarsi eccetera lo trovo molto efficace ora siccome lo slogan funziona bene come call to action se per il nostro business la call to action ideale è quella di farci telefonare dubito ma se fosse così allora mettere il numero di telefono è brutto ma potrebbe anche essere un trucco da copiare eventualmente io dubito che sia la scelta migliore onestamente nella mia esperienza meglio appunto usarla con altri tipi di call to action Enrico mi fa una domanda sulle pagine vetrina che sono per chi non le conosce diciamo delle sottopagine della pagina aziendale delle pagine figlie che quindi sono sempre legate alla pagina da cui si è partiti per crearle che hanno delle caratteristiche fondamentalmente identiche alla pagina appaiono anche proprio identiche ma hanno una grande differenza cioè non possono essere indicate come ruoli come luoghi di lavoro quindi nessuno può dire di lavorare presso una pagina vetrina quindi se casa madre fa n pagine vetrina per le differenti unit o branches intorno al mondo queste non possono essere indicate come luoghi di lavoro ma il vero punto è che i follower di una pagina vetrina e i contenuti pubblicati su una pagina vetrina sono completamente autonomi rispetto a una pagina aziendale quindi questo frammenta tantissimo il pubblico e di conseguenza a meno che non ci siano fortissime ragioni per esempio parlare a un pubblico completamente diverso per lingua o per settore magari o comunque per interesse sono assolutamente sconsigliate Elisa mi chiede a proposito appunto di pubblici diversi come fare il post in doppia lingua è possibile appunto magari uno fa due pagine addirittura se proprio a grandi audience di lingue completamente diverse a cui comunicare magari addirittura contenuti diversi oppure Linkedin permette se si hanno almeno 300 follower con delle speciali caratteristiche per esempio che parlano una certa lingua è possibile pubblicare un post e mostrarlo solo a queste persone quindi targettizzare un post funzione gratuita per le pagine aziendali ma servono almeno 300 follower che hanno quella caratteristica ma si potrebbe utilizzare anche per targettizzare post solo verso senior o junior o un settore o un altro settore in alternativa è possibile in un post mettere le due lingue bruttino ma poi esiste anche la funzione per cui Linkedin traduce grazie a un click vedi traduzione in post differente in una lingua differente rispetto alla propria lingua di sistema ne parliamo fra poco perché ci sarà una domanda proprio su questo e infatti tantissime domande si sono concentrate sui contenuti allora siamo poco dopo la metà del tempo e anche delle slide quindi direi che siamo assolutamente nei tempi e nelle come dire nel programma previsto datemi un feedback stiamo andando troppo veloci le risposte sono sufficientemente approfondite sono chiare proseguiamo in questo in questo modo o volete un cambio di ritmo datemi ok grazie bene così ho la conferma che ci siete ok grazie Luigia io in generale parlo molto veloce e questo mi permette di dire tante cose in poco tempo ma magari alcune volte poco intelligibile allora per spezzare un po' questo ritmo veloce vi racconto un aneddoto io faccio formazione anche in lingua inglese ma chiaramente non è la mia prima lingua e di conseguenza quando ho dei training importanti in inglese alcune volte faccio un po' di training quindi mi affido a un a un insegnante di business english per allenarmi un po' e proprio questa mattina avevo una sessione di allenamento perché domani ho un corso molto importante in inglese per un team vendite negli emirati e mi diceva caspita sei molto bravo perché parli molto piano riesci a scandire molto bene le parole e gli ho detto sì perché in inglese in inglese non potrei essere rapido quanto lo sono in italiano ma in italiano in realtà il mio ritmo di parole al minuto è probabilmente il doppio di quello che riesco a avere in inglese così vi faccio fare anche una risata sulle mie skills linguistiche allora contenuti sono molto contento che la maggior parte o buona parte delle domande siano proprio intorno al tema dei contenuti perché è attorno ai contenuti che poi accadono le grandi cose di LinkedIn avere un bel profilo un'ampia rete o avere sales navigator da soli non cambieranno le sorti della vostra strategia usare bene i contenuti sì però ci sono tanti però quando si parla di contenuti Mirko che ho visto collegato tra l'altro se non sbaglio anche lui mi ha fatto questa domanda molto interessante la riccia organica pare essere calata di molto su LinkedIn e quindi prima di tutto se è uno scenario comune sì assolutamente ha comunque senso investire tempo nei contenuti su LinkedIn e qui parliamo tra l'altro immagino di non immagino è chiaro di reach dei post personali non di pagina aziendale ora LinkedIn ha introdotto un algoritmo da tempo e poi lo continua come tutte le piattaforme ad affinare algoritmo per i meno tecnici è quel software diciamo che gira in background sui server di LinkedIn e che decide a chi mostrare quale post fondamentalmente LinkedIn cerca da una parte di garantire la rilevanza dei post a chi vi deve vedere e dall'altra di evitare l'effetto guru che uno solo perché ha spesso tante view o tante interazioni continui sempre solo a crescere e questo spinge sempre a performare o cercare di performare bene e impegnarsi con ogni singolo post ora questa diminuzione non è detto che significhi realmente una minore reach nel senso che prima è vero era più facile avere post con decine di migliaia di view che ci davano l'impressione di coprire la maggior parte della nostra rete ma in realtà chi erano realmente queste persone erano realmente interessate una cosa che abbiamo notato confrontandoci anche tra altre persone che fanno più o meno lo stesso lavoro è che sicuramente sono diminuite le view ma non sempre sono proporzionalmente diminuite le interazioni quindi un po' sì ma non così drammaticamente quindi in realtà meno reach ma più o meno un engagement simile quindi in teoria LinkedIn dovrebbe essere riuscito a tagliare fuori quelle view che non erano realmente in target poi sicuramente la competizione oggi è più alta un po' per l'algoritmo cattivo tra virgolette e un po' perché c'è più gente attiva su LinkedIn anche se chiaramente non tutti scrivono però in definitiva nonostante questo la mia risposta è assolutamente sì continua e non sono certo l'unico a sostenerlo LinkedIn continua a essere una piattaforma dove investire tempo per contenuti originali è un'ottima idea ma è anche vero che i contenuti non devono essere 100% originali in molti proprio poco tempo fa leggevo un post di Luca Mastella su questo tema in molti sostengono che lo stesso post con adattamenti alla psicologia degli utenti su quella piattaforma può essere anche replicato oppure un modello che noi stiamo per sposare presto inaugureremo sulle nostre pagine è quello di partire da un contenuto e da lì derivarne alcuni altri partire per esempio da un video da cui far derivare poi dei post con un estratto del video un abstract o una parziale trascrizione del contenuto stesso delle pillole attraverso un PDF sfogliabile e quindi in realtà un po' come il vecchio detto che dal maiale non si butta via niente anche per i contenuti si può in qualche modo ottimizzare la creazione tra l'altro collegato alla domanda di Mirko ne leggo due o tre ci sono delle domande che poi sono affini per esempio Paolo mi dice che ha notato una reach minore quando condivide fondamentalmente un articolo col proprio commento rispetto a un contenuto proprietario oppure Elisa che dice i link esterni sì oppure no ma anche quali sono in generale quelle più efficaci chiede Teresa foto video testo e ci sono anche altre domande che arrivano dopo che riguardano magari il PDF sfogliabile o il link nel primo commento ora non esiste una risposta univoca perché è vero io stesso sostengo e sono pronto a ripeterlo perché vorrei qualcuno che mi potesse smentire che i post che contengono un link esterno performano esattamente alla stessa maniera dei post senza link ci sono tantissime evidenze anche se LinkedIn non la ammette che i link esterni sono meno graditi quindi non è tanto il tema di contenuto nuovo originale in questo caso quanto proprio di rischiare da parte di LinkedIn che le persone abbandonano la piattaforma per andare da un'altra parte a leggere il contenuto però vi noterete anche dei post che nonostante abbiano un link esterno sono diventati virali addirittura delle condivisioni pure che sono diventate virali quindi alla fine dipende dalla bontà del contenuto ma in generale i link sono un po' svantaggiati per questo ne parlavamo proprio anche ieri sera durante un webinar che ho fatto con i miei corsisti chi segue i corsi con me poi per diversi mesi ha dei momenti settimanali e mensili di confronto con me e gli altri corsisti e parlavamo di questo quanto è importante assortire contenuti di tipo diverso argomenti diversi pubblicati in modo diverso foto video presentazioni magari pubblicati in giorni e orari diversi per provare intanto a coprire diverse fette perché come mi chiede Natalia quale percentuale dei collegamenti vede un post LinkedIn non ce lo fa vedere ci dice le view che sono il numero di volte mostrato ma non si sono collegati con noi oppure no e quindi se noi variamo aumentiamo la possibilità di raggiungere persone diverse che hanno un utilizzo diverso della piattaforma dall'altra anche per stuzzicare in modo un po' diverso LinkedIn e poi analizzando i risultati capire cosa funziona di più per la nostra rete di collegamenti e quindi imparare anche un po' dai nostri risultati quindi penso di aver risposto a due o tre domande in questo bene alternarli sicuramente funzionano molto bene le presentazioni e c'è anche poi una domanda la vediamo fra poco sulle presentazioni a livello invece di foto video solo testo sono bene o male si equivalgono oggi analizzando le performance con un cliente a cui ho fatto consulenza abbiamo visto che per assurdo il post negli ultimi tre mesi ha performato meglio tra tutti quelli che ha pubblicato era uno senza immagine e invece di solito mette sempre un'immagine quindi è difficile avere una risposta univoca visto che parliamo di analytics è bene intenderci allora vado alla domanda successiva e poi torno un attimo indietro perché qualcuno mi chiede proprio come funziona cosa dobbiamo guardare allora le view sono il numero di volte che un post viene mostrato nella bacheca di qualcuno per almeno un terzo di secondo quindi uno scroll non troppo veloce conta comunque e se a una persona viene mostrato più volte conta più volte quindi non sono le teste le view poi nella pagina aziendale abbiamo anche altri dati come per esempio il tasso di interesse o engagement rate che è la percentuale tra le interazioni avute clic consiglia commenta condividi e le visualizzazioni per capire quale segmento tra chi ha visto il post ha effettivamente interagito sicuramente oltre alle view il tasso di interesse è un aspetto molto interessante da analizzare perché permette in effetti di capire non solo se ha viaggiato tanto ma se poi ha interessato l'audience attenzione qui non posso però entrare troppo nel dettaglio perché ci servirebbe forse un quarto d'ora solo per quello che però i dati vanno un po' saputo interpretare perché talvolta per esempio metto lì un seme con una galleria di immagini il tasso di interesse sarà sempre più alto perché ogni volta che si sfoglia per andare all'immagine successiva quello viene contato da LinkedIn come un'azione e quindi conta per il tasso di interazione quindi non è sempre così facile interpretare insomma e in particolare a proposito di amplificazioni delle view attenzione che le condivisioni in quanto ripubblicazioni di un post diciamo così le visualizzazioni che una condivisione avrà in quanto la condivisione è una ripubblicazione non verranno conteggiate nelle visualizzazioni del post originario quindi in termini di view le reazioni e i commenti sono molto 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 più efficaci perché mostreranno il post originale a un segmento dei collegamenti di chi fa il commento o la reazione mentre nella condivisione no perché viene duplicato il post e mostrato a una parte di queste persone ma le view saranno le view della condivisione non del post originale ecco questa era la domanda che abbiamo già commentato no perché fondamentalmente le domande di Laura e di Elisa erano assolutamente simili sugli analytics io le ho volute mettere assolutamente tutti allora come dicevo prima non fatemi domande che non siano sull'argomento che sto trattando perché sennò me le perdo e non riesco a rispondere ok le teniamo eventualmente per ultime perché altrimenti come dire appunto non riesco comunque a rispondere nei post meglio rivolgersi al proprio pubblico del tuo parlando impersonalmente in particolare nel settore legale io sono per l'informalità ma so che non in tutti i settori è così sdoganata diciamo che LinkedIn ha una sua come dire eredità ecco mettiamola così un po' anglosassone per cui un po' di informalità è più tollerata che in altre piattaforme per me un po' di informalità è molto utile proprio anche per creare una relazione più immediata qualora però la persona non dovesse sentirsi in effetti infastidita cerchiamo di non essere troppo formali se non possiamo dare del tu perlomeno e magari nel settore legale questo è il caso però non essere nemmeno troppo pomposi e distaccati quindi magari diamo del lei ma cerchiamo di utilizzare comunque un linguaggio molto diretto perché altrimenti non c'è engagement eccola qua la domanda sugli slideshow è molto semplice si fa un PowerPoint per esempio o si può fare anche con Canva si scarica un PDF e lo si carica quindi io suggerisco sempre di utilizzare i PDF perché avete il maggior controllo sul risultato ma LinkedIn accetta anche il caricamento di un PowerPoint quindi se voi caricate una presentazione con 2, 3, 4, 5 slide anche con Canva si fanno benissimo poi verranno sfogliate direttamente e funzionano molto bene per l'algoritmo di LinkedIn ma ripeto non è una bacchetta magica la freccia appare automaticamente ma io suggerisco se guardate nei miei contenuti in effetti lo faccio suggerisco eventualmente di mettere proprio anche nella grafica che si va a creare una freccina in basso destra bella colorata che possa proprio far capire molto bene alle persone che si può andare avanti questo è molto semplice Angela mi chiede come usare le varie emoticon al posto del solito like sono di default già abilitate per ogni post che voi scrivete quando sono i post che invece voi leggete se volete lasciare una reazione diversa dal like basterà tenere premuto nel caso del cellulare e poi selezionare l'emoticon che appare oppure tenere il mouse sopra all'icona del pollice se invece quello che intende Angela è mettere un emoticon nei commenti la potete copiare da un altro pagina web o io le copio da Whatsapp web o sempre Whatsapp o sul cellulare da Whatsapp stesso metti l'emoji la copi e poi la incolli nel box del commento vedete che abbiamo domande che spaziano dalla strategia più strategica alle cose più pratiche come funzionano le traduzioni degli aggiornamenti allora lo citavo prima Camilla lo rispiego meglio LinkedIn mostra in automatico sotto a un post la dicitura vedi traduzione o si translation per poi post non si vedono più le slide no si vedono le slide datemi un perché ho qua un monitor di riscontro si vedono ok grazie quindi mostra questo vedi traduzione per quei post che LinkedIn riconosce essere scritti in una lingua diversa dalla lingua di sistema che il visualizzatore sta utilizzando la lingua di sistema è quella del menu quindi se hai il menu in lingua inglese sotto i post scritti in lingua italiana ti compare visualizza traduzione perché LinkedIn pensa che tu non parli italiano ma sei inglese americana e di conseguenza ti propone la traduzione anche dell'italiano quindi se voi scrivete in italiano i vostri post i vostri collegamenti da altre parti del mondo che hanno il menu di LinkedIn nella loro lingua madre vedranno un bottone una righettina sotto al post con scritto nella loro lingua visualizza traduzione potranno quindi tradurla automaticamente la traduzione è fornita da Bing ovviamente non da Google Translate e dovrebbe funzionare non dipende da te perché in quel caso sei tu se hai 300 follower che puoi pubblicare un post in diverse lingue qui è semplicemente una traduzione automatica come per le pagine web quando si naviga e dipende da chi sta guardando che può richiedere la traduzione automatica ok allora ci siamo quasi siamo a ottimo un ottimo punto per un commerciale in un post quale potrebbe essere la migliore call to action per avere più commenti chiedere l'opinione sempre tu cosa ne pensi hai avuto un'esperienza di questo ti sei mai trovato in questa condizione cosa aggiungeresti magari si fa una lista cos'altro aggiungeresti questo funziona sempre tanto troverete anche delle call to action un po' furbette tipo menziona un collegamento che potrebbe essere interessato a questo post o commenta con boom se vuoi ricevere in privato il link che ti cambierà la vita le ho provate anch'io per poterne parlare male e sono delle call to action un po' troppo furbette soprattutto se si vuole costruire una buona reputazione come professionista nelle vendite è meglio andare su delle call to action che possano creare in effetti engagement Emanuela mi chiede il link nel primo commento famigerato il link nel primo commento allora oggi la mia collega molti di voi la conoscono con Elena ci sono scambiati delle bozze per un post da pubblicare domani sulla nostra pagina e questo post conteneva nel link nel primo commento il link alla fonte originale e l'abbiamo cambiato in nei commenti il link alla fonte originale perché perché non è possibile essere sicuri che sia nel primo commento in realtà non se ne ha mai la completa certezza di conseguenza io preferisco metterlo come primo commento e i primi che lo vedranno lo vedranno come primo e unico ma in realtà poi probabilmente scalerà e quindi metto nei commenti talvolta una cosa che si utilizza fare al momento della pubblicazione metterlo nei commenti dopo che il post ha già avuto la sua prima ondata di view diciamo dopo qualche ora eventualmente togliere il commento andare a modificare il post togliere quella dicitura nei commenti o nel primo commento e mettere il link nel post stesso perché a parere di alcuni miei colleghi questo non penalizzerebbe io non sono solito farlo ma è una cosa che si può sicuramente testare suggerimenti sull'utilizzo della newsletter allora Elena questa è una bella domanda ed è una novità per cui ora non vorrei spendere troppo tempo su questo perché va spiegata bene con delle immagini la sintetizzo ma farò un video o un post specifico sul mio profilo su questo per tutti e in sintesi LinkedIn da poco ha rilasciato una nuova funzione che permette di creare una newsletter ovvero una notifica diretta alle persone che decidono di riceverla ogni qualvolta si pubblica un articolo lungo non i post brevi ma articoli lunghi quelli di Pulse e che si segna volontariamente che sia uno di quegli articoli che vogliamo vengano notificati LinkedIn la chiama newsletter ma non è più che questo in realtà è una sorta di rubrica che noi curiamo attraverso articoli lunghi che può essere notificata tramite email a chi si iscrive è gratuita per ora non è stata ancora rilasciata a tutti diciamo che è un po' in beta ma non la rimuoveranno quasi sicuramente e però ripeto farò un tutorial su questo perché è un argomento un po' articolato e complesso essendo molto nuovo questa è una domanda interessante di Francesco sempre sui contenuti che dice come fare quando si cercano dei contenuti a vederli anche in altre lingue perché mi sembra che siano sempre solo nella mia lingua l'italiano allora in realtà non è esattamente così ma poi alla fine l'impressione è quella LinkedIn quando fai delle ricerche per contenuti o per esempio per hashtag ti mostra una serie di contenuti in ordine di rilevanza per te e la rilevanza per esempio è la lingua è il fatto che sia scritta da persone della tua rete o della rete di secondo grado però tu puoi anche ordinare questi contenuti anziché per rilevanza per i più recenti e dovresti in questo modo poter spaziare anche un pochettino fuori purtroppo nella ricerca per contenuti non è possibile selezionare come criterio la lingua o il paese cosa che invece sarebbe veramente bellissima proprio per leggere o solo i contenuti nella propria lingua o solo i contenuti in altre lingue purtroppo ad oggi non si può fare bene allora abbiamo le ultime due sezioni sezioni scusate ma molto rapide perché uno è sull'advertising l'ho messa ma può avere una domanda solitare che infatti dice che si parla molto poco in realtà di pagina aziendale e delle ads di LinkedIn in effetti mi è arrivata una domanda solitaria sulle ads è un argomento che io amo faccio tantissimo lavoro con le ads ma poche persone sono curiose sulle ads evidentemente però la risposta qui per Severi è semplice non è possibile vedere chi visualizza una campagna è possibile vedere chi per esempio in una campagna con obiettivo lead lascia il lead è possibile oggi creare un audience di remarketing per chi ha visualizzato un video entro una certa percentuale per esempio o chi ha aperto un modulo di contatto e non l'ha inviato ma non ne avremo i nomi però potremmo utilizzare quell'elenco di persone come audience di remarketing per fare una successiva campagna lui dice sì sono più costose è vero no oggettivamente però anche lì guardate è un bel tema in generale sì ma si possono anche ottimizzare bene e avere dei risultati ben scalabili con prezzi ragionevoli diciamo così allora l'ultimo blocco di domande riguarda la carriera e sono poche ma voglio rispondere parto da una a cui sono sincero non so rispondere così vi dimostro che non è vero che le so tutte questa non la so maria mi chiede come ottimizzare il profilo alla luce dei software ats i software di selezione che che poi è la seconda domanda no collegata alla seconda domanda esistono dei tool questi ats le integrano che leggono in qualche modo i cv o i profili per capire chi sono le persone più interessanti allora la dashboard della gestione delle offerte di lavoro di linkedin ha un suo tool integrato che permette di trovare il match tra le caratteristiche dei candidati e i profili per capire quelli che sono interessanti ma lì è l'algoritmo di linkedin è un'altra cosa io non occupandomi di carriera di selezione non sono un recruiter non l'ho mai fatto non ho mai usato un software ats quindi in realtà non so rispondere a questa domanda però di solito un profilo ben compilato con tutti i ruoli giusti con tutte le parole giuste usando propriamente tutti i campi dovrebbe riuscire a non essere troppo ostacolato da questi tool ma non ho un'esperienza specifica sono molto sincero come si fa ad abilitare la funzione open to work su computer mi chiede Cristina open to work è quella funzione che permette di mostrare una filigrana una sovraimpressione alla foto del profilo in verde con l'hashtag open to work per urlare al mondo sto cercando lavoro per abilitarle è molto semplice perché basta andare sul proprio profilo andare su aggiungi sezione del profilo nella parte alta quando si è sul proprio profilo c'è questo bottone per aggiungere aree nel profilo e nella parte alta c'è proprio adesso vi dico come si chiama esattamente la vado a controllare la sezione che si chiama tipo cerco lavoro ed è possibile mettere una spunta per dire che voglio che tutti lo sappiano quindi non solo che sia visibile ai recruiter ma che questa mia ricerca di lavoro sia visibile a tutti e di conseguenza si chiama lo si trova all'interno della sezione presentazione quindi aggiungi sezione del lavoro presentazione sto cercando un nuovo lavoro se si seleziona che lo possono vedere tutti comparo automaticamente la cornice che come dice bene Natalia nei commenti molti dicono che non è così consigliabile io sono d'accordo perché spesso urlare in qualche modo no sto cercando lavoro non è il miglior modo per attrarre il lavoro anche per i recruiter non sempre è un'indicazione così positiva però qua i recruiter si dividono in realtà tra chi è pro e chi è contro e chiudiamo se non sbaglio con le domande no ce ne sono ancora due perché sconsigliamo di mettere il CV perché in realtà se il profilo è fatto bene contiene il CV il profilo non è solo il CV ma in qualche modo lo contiene se fatto bene se un recruiter lo vuole lo chiede non è che perché sei lì se lo scarica quindi questo è il motivo per cui poi ci possono essere dei recruiter un po' alla vecchia maniera che in realtà preferiscono comunque avere il CV io vedo società di selezione che ancora se li stampano addirittura tutti io veramente ho come dire un accendo un cero a Greta Thunberg ogni volta che vedo queste cose ma ma lo fanno Natalia aggiunge ci sono dati sensibili anche vero questo tra l'altro e poi Claudio e ritorniamo un po' alla prima domanda da cui non sapevo rispondere ma qui invece è un po' più semplice vorrei comprendere meglio il funzionamento dell'algoritmo che gestisce le ricerche di personale cioè perché spesso non mi arrivano le notifiche giuste allora diciamo che dipende da due aspetti l'ottimizzazione del tuo profilo e l'ottimizzazione del tuo profilo e quindi del tipo di notifiche che vuoi ricevere ma anche come vengono impostate le offerte di lavoro da parte delle aziende e spesso mi spiace dirlo non sono fatte particolarmente bene guardate proprio oggi io ho fatto un contratto con un'azienda con cui comincerò a lavorare che nonostante abbia comprato un pacchetto con LinkedIn a diversi zeri diciamo così all'anno che comprendono anche gli slot delle offerte di lavoro ha comprato da noi un servizio di studio di template di offerte di lavoro efficaci e accompagnamento nell'utilizzarle perché vanno messi alcuni criteri detto questo purtroppo LinkedIn ha sempre avuto un problema nel fare il giusto match tra domande e offerte di lavoro se anche comprato alcune startup che promettevano di riuscire a fare meglio questo match ma che probabilmente non funzionano così bene la realtà è che le offerte di lavoro e le notifiche di per sé sono poca cosa sono una grande cosa ma sono poca cosa cioè non è sufficiente per trovare lavoro bisogna proprio guardare le pagine delle aziende vedere come si muove all'azienda prendere contatto con i manager o con le HR avere un profilo accattivante quindi le offerte di lavoro che ci vengono notificate sono in realtà una piccola parte di quello che c'è da fare per cambiare lavoro o trovare lavoro attraverso LinkedIn Cristina lo trovi sotto a presentazione presentazione sto cercando un nuovo lavoro bene allora arrivati a questo punto due cose uno grazie di avermi seguito sono contento che siete rimasti quasi tutti fino alla fine quindi o avete abbandonato il computer mentre andavate a fare l'aperitivo o effettivamente vi interessava quindi grazie seconda cosa Cristina scrivimi in privato e vediamo di risolvere come mai sul tuo profilo non si vede potrebbero essere dei settaggi di privacy a questo punto in effetti non avendo la foto del profilo potrebbe essere questo magari uno dei punti comunque scrivimi eventualmente cerchiamo di risolverla e per tutti gli altri io mi fermo 5 minuti extra per chi ha delle domande che non è riuscito a mandarmi o se ho saltato qualche domanda o altro ok molto lunga questa domanda vediamo di provare a leggerla comunque se volete scrivermi delle domande io proverò a rispondere a 3-4 domande extra così vediamo se le so tutte o se riuscite a mettermi in difficoltà allora leggo la domanda di Maria personalmente ci tengo particolarmente all'importanza rivestita dalla formazione continua quindi la mia domanda è attivante all'inserimento dei corsi di aggiornamento all'interno del profilo in caso di numerosi corsi cosa sarebbe più corretto meglio indicarli nell'area licenze e certificazione come suggerito spesso dagli enti oppure opportuno aggiungere alla sezione formazione allora Maria dipende dal tipo di corso diciamo che una formazione più strutturata sta nella formazione quindi magari una formazione online ma sono stati diversi appuntamenti diverse giornate quindi è strutturata puoi inserire anche qualche spiegazione in più qualche dettaglio può tranquillamente stare anche nell'area formazione che è ufficialmente o education in inglese che ufficialmente è riservata a formazione superiore universitaria post universitaria ma ci potrebbe stare anche questa fornita da altri enti la sezione invece delle certificazioni è più per quegli enti che in effetti rilasciano anche una certificazione quindi poi in qualche modo una pagina dove andare a verificare questo corso come facciamo anche noi in effetti che permettiamo alle persone di metterlo nelle certificazioni la sezione corsi invece è veramente un po' sfortunata su LinkedIn perché se li mettete nella sezione corsi spariscono in fondo tutto è più grande il numero dei corsi frequentati che il titolo dei corsi quindi non se li nota nessuno un'altra idea se i corsi sono particolarmente qualificanti per quello che si fa o si vorrebbe fare è raccontarli nella sezione presentazione quindi nel riepilogo per intenderci o informazioni quindi raccontare dire nell'ultimo anno ho frequentato questi corsi perché voglio fare questo e quindi diventano parte del racconto della tua professionalità spero di aver risposto Elena no le newsletter sono solo per le persone perché le newsletter sono legate agli articoli lunghi che possono scrivere solo gli individui grazie Luigia ci vediamo presto spero anche di persona Luigia è di CFMT con cui facciamo abbiamo fatto tantissimi corsi tanti in presenza da sempre tanti online ora chiaramente solo online quindi grazie Luigia e spero di vederti presto e grazie a tutti gli altri Elena, Cristina Maria, Marina Natalia siete intervenuti in tanti Mirko Walter oddio adesso chiaramente faccio del Ann Cristin Mario Elena l'ho già nominata chi è che è anche intervenuto Cristina Elisa Franca Camilla Francesca Valentina Michele anche che c'è chiarito la domanda Achille Mario eccetera eccetera Marina ciao ok ultima domanda qualcuno vuole spararla oppure chiudo ditemi voi conto fino a tre 3 2 1 se non c'è una domanda allora chiudo vi manderò la registrazione teniamoci in contatto su LinkedIn e per chi vorrà venire ci vediamo a Milano non potrò abbracciarvi o stringervi la mano ma sarà un piacere stare insieme finalmente nuovamente in aula grazie buona serata a tutti grazie 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 grazie